La partita di Renate è una peggiore partita peggiore, questa è una partita peggiore. Sì, questa è indubbiamente stata una bruttissima partita da parte nostra, non siamo mai stati in partita, siamo stati al contrario di domenica scorsa, siamo entrati in campo con meno veemenza, con meno aggressività, eravamo anche perdenti in tutti gli scontri. Siamo stati perdenti ed è sicuramente la più brutta. Un giudizio è stato per esempio una delle indecisioni in difesa anche con giudizio capio, i primi due gol sono stati regalati, ma non solo quelli. Siamo stati indecisi dappertutto, non solo in difesa. Abbiamo perso meritatamente, perché abbiamo perso assolutamente meritatamente e non ci sono né alibi né scusanti per una prestazione del genere, per una partita del genere. Dobbiamo solo prenderci le nostre responsabilità io per primo e cercare di lavorare perché non si ripeta mai più una cosa del genere. In un match in cui il Bassano nel primo tempo non è sembrato essere così superiore, ci ha messo sicuramente più intensità, però l'Alessandria aveva ottenuto botta. Cos'è successo poi dopo il gol di 1-1 dove l'Alessandria sembrava poter comunque tentare qualcosa di più rispetto a quello che aveva fatto nei primi 20 minuti? No, ma anche il primo tempo non è stata una buona prestazione da parte nostra, soprattutto in considerazione di quella che è stata la prestazione di domenica. Noi abbiamo nelle corde, secondo me, prestazioni come quelle di domenica e queste tipo di prestazioni non devono verificarsi perché abbiamo una certa qualità. Dobbiamo solo metterci più rabbia in tutto quello che facciamo, più cuore, più ardore, più tutto. Siria era uno dei giocatori sicuramente più preparati, oggi forse però l'impatto con il campo non è stato così positivo rispetto a quello che ti aspettavi. No, ma questo non è un discorso di singoli, è stato un discorso di prestazione generale che è stata negativa. Non c'è da fare un discorso di singoli, secondo me. Tutti quanti siamo stati al di sotto delle nostre possibilità, ma molto al di sotto. Tu hai detto non alibi, non ci sono alibi, però sicuramente la difesa senza Viviani ha pagato e il centrocampo senza Valentini alla fine ha. Si è quasi annullato, comunque non si è visto neanche il lavoro di cavalli, perché, mi permettimi, il Caciagli è stato molto inconsistente. Ma no, io non direi questo, non è un discorso, ripeto, di singoli, io penso di avere un gruppo e ho fiducia in tutti i membri di questo gruppo e quando vengono chiamati in causa hanno sempre risposto bene, questa non è una questione di chi ha sostituito chi, siamo stati tutti al di sotto, non c'è questa scusante. Eh, Giglio, tu sei una brava persona e parli bene, difendi i tuoi, ma perdi uno, perde palla a centrocampo, su tre passaggi ne sbaglia quattro. A un certo punto, sull'economia della squadra, pesa, 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 pesa. Se non ha avuto una palla persa abbiamo preso il gol. Non devono essere obiettivi, eh, in certi casi. Ma si è perso tanti palloni, si è sbagliato tanti passaggi, non è, ripeto, non è una questione di singoli. Qualità, qualità, no. Più che altro la reattività ci ha un pochettino sconcertato di questa squadra, sembrava che il Bassano fosse veramente sempre, in tutti i 90 minuti, sempre prima sul pallone. Sì, 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 è tutto vero, è vero. Siamo stati anche, siamo entrati molli, non so, non siamo entrati con la stessa veemenza con cui siamo entrati domenica. Forse pensando che la cosa avvenisse automaticamente, no, queste cose, il tipo di prestazioni come quella di domenica non vengono per caso, vengono perché ci credi, perché lo fai, lavori bene durante la settimana, abbiamo lavorato bene anche questa settimana, però poi devi trasportare tutto sul campo la domenica e questo oggi non c'è stato. C'è vorrei che questo campionato possa complicarsi ulteriormente anche perché le squadre che stanno dietro cominciano comunque ad avere segnali di risveglio. Oggi addirittura il Cuneo è recuperato in nove uomini contro il Brau, è stato di 2-0, quindi squadre che non mollano mai. C'è questo rischio da parte della formazione grigia di forse sentirsi anche un po' troppo sicura o un po' troppo, diciamo, sicura nelle giocate, nella sua capacità di affrontare il match? Oggi è successo il contrario secondo me, eravamo proprio impauriti, eravamo proprio insicuri anche nei passaggi di 5 metri, ne abbiamo sbagliati tantissimi, abbiamo avuto tantissimi appoggi, abbiamo perso tanti contrasti, i rimpalli poi ci dicevano anche a sfavore. Io non penso che sia un problema di superbia da parte dei miei ragazzi, siamo proprio entrati in campo pensando che venisse automaticamente un tipo di prestazione tipo quella di domenica scorsa, ma non è così. C'era il sentore durante la settimana che potesse esserci un crollo di questo genere oppure è stata una cosa inaspettata da parte tua? No, io sinceramente non me l'aspettavo, io ho fiducia piena in questo gruppo e una prestazione del genere da parte di tutti noi è compreso, ripeto, non deve più ripetersi. C'erano 20 tifosi dell'Alessandria che sono venuti qui, anche in maniera abbastanza coraggiosa, alla fine della partita erano anche abbastanza, potremmo dire, senza un impiumismo incazzati. Beh, sì, hanno ragione perché a me dispiace tantissimo, avremmo tutti quanti voluto regalare a questi ragazzi che ci seguono, facendo un sacco di chilometri, una prestazione di tipo differente. Mister, dopo questa prestazione è un po' opaca, si sente in discussione. Ma guardi, io non posso che ripetere quello che ho sempre detto dall'inizio, un allenatore si sente sempre in discussione, dopo una prestazione del genere è un risultato del genere che aumenta, diminuisce il fatto di sentirsi in discussione. Io cerco di fare sempre il mio lavoro in modo entusiastico, anche in modo professionale e poi, chiaro, le decisioni le prendono altre persone, ma io ci metto tutto me stesso in questo lavoro. Allora ribalta un po' la domanda, che è forse un po' più cattiva. Qualche scelta di mercato non soddisfa quelle che sono le tue esigenze? No, no, ma non voglio neanche parlare di queste cose, non esiste, una prestazione di genere non ha niente a che vedere con scelte di mercato, basta con queste storie, perché hanno ormai toccato il culmine. Vabbè, ma Egilio, scudo, la qualità, però, tu le hai già poi comunicato, di casa, difesa, centro campo e attacco assolutamente inferiori sia dal punto qualitativo che dal punto fisico. Oggi siamo stati inferiori in tutto. Questo è già da pensare, da pensare, ti dici che non vuoi discutere sull'equip, sul mercato, il mercato è stato fatto male. Ah no, non è vero, non è stato fatto male il mercato, non sono d'accordo su questa affermazione assolutamente, abbiamo fatto un buonissimo mercato. Invece cos'è Camarotto? Ha sentito un problema muscolare, adesso bisogna capire che cos'è, ha chiesto il cambio perché il dolore si acquiva, allora ho fatto il cambio. E con un'ultima domanda, sembra sempre di aver trovato l'equilibrio difensivo, sei anche abbastanza bravo a cercarlo e a trovarlo per 3-4 partite, poi improvvisamente capita qualcosa in cui queste certezze crollano, come mai? Come te lo spieghi? A parte la partita di oggi che siamo stati al di sotto, per quanto riguarda il discorso dell'equilibrio difensivo fino alla partita di oggi, eravamo la seconda difesa o la terza, quindi non mi sembra che ci sia stato altre volte qualche crollo, non mi sembra il crollo. Ok, perfetto, io ho altre domande, non so se i colleghi si possono fare qualche domanda. Sì, ho un'altra, ho un'altra, ho un'altra. Se vuoi andare, mi va, vai. Ci siamo, aspetta un attimo. Riccardo Tadei, cominciamo dalla cosa più bella di questa partita che è stato il tuo gol, la sponda di scotto e il tuo controllo, il tuo sinistro fulminante, un gol sicuramente da giocatore di categoria superiore, peccato, veramente non si è servito. Sì, hai detto tu, mi dispiace molto che un gol così bello non sia servito, di conseguenza passa in secondo piano anche a livello di soddisfazione, quindi parleremo sicuramente di altro e non di questo, giustamente. Ecco, quello che lascia perplesso è che ha rimarcato anche il mestrano Tare Stefano, il modo forse in cui siete entrati in campo, specie nel secondo tempo, completamente svuotati, scarichi, in barrià forse di un avversario che oggettivamente oggi e forse in tutto il campionato è sicuramente superiore in tutti gli effettivi, però oggi più rispetto diciamo alle prestazioni, ma ad esempio qua domenica scorsa contro il Forlì che si pensava fosse la partita della svolta, oggi invece avete mostrato praticamente la faccia opposta rispetto al match contro il Romagnolo. Sì, ma non il secondo tempo, non è stato solo il secondo tempo, siamo riusciti a rimettere in piedi la partita a metà primo tempo sapendo che questo era un campo veramente difficile, non siamo riusciti nemmeno a tenere dieci minuti il risultato, quindi non è stato un approccio del secondo tempo, è stata veramente una giornata negativa in cui giustamente, come avete già detto, sono venute fuori i difetti e le lacune della squadra, a differenza della scorsa domenica dove magari a livello caratteriale si era pensato ad una svolta, purtroppo non abbiamo dato continuità alla partita di domenica e questa è sicuramente la ferita più grossa dall'inizio del nostro campionato. Carlo, tu hai detto proprio adesso col carattere e con la gestibilità abbiamo colmato alcuni problemi, però hai parlato di lacune invece in questa partita qua, quindi il carattere ha coperto le lacune o in generale ci sono delle lacune oppure ci sono alcune in questa partita in cui il carattere è mancato e quindi sono emersi più? Sì, no, no, volevo dire la seconda cosa che hai detto, che ci sono state delle lacune caratteriali, nel senso che quando sai di venire in un campo così difficile a giocarti la partita, ti trovi sotto 1-0, riesci a recuperare e non riesci a tenere nemmeno 10 minuti il pareggio, 5 minuti, quindi vuol dire che le lacune sono state caratteriali e ripeto, dispiace perché come avete giustamente sottolineato oggi è stato esattamente il contrario della scorsa domenica dove a livello caratteriale la squadra aveva dato risposte importanti mentre oggi secondo me il nostro esame di coscienza individuale di ognuno di noi dovrà essere soprattutto da un punto di vista caratteriale. Ecco, se mi eravate sovrastati anche fisicamente, vi riusciva difficile tutto quello che di solito riesce normale a fare, anche a te Riccardo? Ma a livello tecnico, a livello di gioco non credo che nemmeno che avessimo fatto malissimo, nel senso che le occasioni per pareggiare le abbiamo avute, credo che non è stata forse a livello tecnico la peggior partita, secondo me è stata a livello proprio di carattere, a livello di squadra, loro sono una buona squadra però quando avevamo la palla si vedeva che ci temevano, infatti le occasioni per pareggiare, un rigore abbastanza evidente anche c'era, si, queste sono cose che possiamo anche analizzare nel senso che magari finisce 2 a 2 il primo tempo, la partita può anche cambiare, però diventa difficile quando la partita finisce 4 a 2 e poi dopo dire quali sono le cose che sono andate, sono più evidenti ovviamente le cose che non sono andate. Ma faccio una domanda di tutti e due, vi siete accorti comunque come atteggiamento, l'atteggiamento ricorrente nostro della squadra grigia è quella che ha fatto un gol, ho raggiunto il pareggio, la resiamo di 15 metri, il Bassano su 2 a 1 ci ha pressato in un modo, ha attaccato, ha continuato a attaccare come se fossimo 0 a 0, vi siete resi conto di questo, che c'è un difetto proprio di atteggiamento da parte della squadra, della nostra squadra. Con quanto è col collega Dicino? Ma sì, ho detto bene, forse quello che dà l'occhio è forse l'atteggiamento sbagliato della squadra, noi, cioè dispiace perché comunque noi tutte le domeniche entriamo in campo con la voglia di vincere, poi dopo ci sono situazioni dove magari abbiamo pareggiato, forse il nostro pensiero è stato di aver preparato una situazione difficile, forse è quello che dà da pensare, forse è quello che dobbiamo lavorare, perché come ha detto Ricchi, forse non è neanche stata la peggio partita a livello tecnico o tattico, e poi quando si perde 4-2 è difficile anche analizzare le cose che sono altre, bene. Ci dispiace perché è l'atteggiamento che dobbiamo migliorare, è il modo di affrontare una partita, è il modo di affrontare questo Bassano, è il modo di affrontare Domenica e Sant'Arcangelo, è una cosa che ci è capitata e che dobbiamo smettere di fare. Tu hai avuto poco aiuto e quindi sei ristanco sicuramente, sei affannato perché nessuno ti ha dato una mano in quella parte di campo, però onestamente forse non ti sei accorto che in tutti i settori, difesa, centro e avanti, sono stati superiori in tutto, come atteggiamento sia tattico che anche fisico, mi sarete accorti che correvate dietro gli altri e non riuscivate a prendermi. Ma cosa dobbiamo dire? Che c'è un atteggiamento da parte nostra molto tenue rispetto a quello che invece è una squadra che deve arrivare nella vetta della classifica. Sì, ma il discorso è che quando affronti questo tipo di partita non è che uno parte dal presupposto di farla apposta. Abbiamo trovato una squadra... No, 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 sto dicendo che è nata una difficoltà per il semplice fatto che portiamo una maglia, tra virgolette, pesante, nel senso che se leggete le dichiarazioni del pre-partita, ogni partita l'avversario di turno dice Alessandria è una delle squadre più forti, quindi chi ci affronta, ci affrontano sempre con il coltello tra i denti, ci affrontano sempre con una grossa convinzione perché sanno che se senza quella convinzione magari la qualità tecnica di alcuni giocatori gli potrebbe fare male. Noi dobbiamo riuscire a portare quella convinzione a livello delle altre squadre, quindi dobbiamo giocare con le qualità tecniche che abbiamo, ma con l'aggressività e con l'ignoranza, passatemi il termine, tra virgolette, delle squadre che ci affrontano. Fino a che non c'entrano nella mentalità che tutti vogliono fare bella figura contro di noi... Dobbiamo fare in fretta, dobbiamo fare in fretta. No, più che altro ribalto la domanda a quella che ha fatto la camisola tra il tempo. Ti aspettavi durante gli allenamenti della settimana, durante anche magari l'allenamento di rifinitura, ti aspettavi praticamente questo calo di concentrazione? Avevate avuto sentore di qualcosa che non andava anche nella preparazione del match? A mille all'ora dal primo giorno del ritiro si vede lontano un minuto. Ma no, non parliamo di allenamenti, parliamo magari di qualcosa che è scattato nella testa che dice signori, questo non va, questo atteggiamento è da cambiare. Tutti quanti eravamo convinti, compresi noi giocatori all'interno dello spogliatoio, che la partita di domenica con le difficoltà del caso fosse stata la partita della svolta per quello che riguardava la consapevolezza. Quindi ripeto e dico con grande delusione e grande tristezza che il primo ad andarmene a casa con la coda tra le gambe perché ho sbagliato completamente la convinzione sono io. E così tutti i miei compagni. Eravamo convinti di aver incanalato la strada giusta e questo schiaffo, ripeto, è la ferita più grossa dall'inizio del campionato. Gabriele, non concordi con il tuo compagno, ovviamente tu avevi sentore anche tu oppure c'era proprio questa convinzione che era scattata in voi? Eravate convinti che effettivamente contro i Forlì poteva essere la prestazione che bilanciava ad un campionato sicuramente migliore e oggi forse questa sconfitta ha ridimensionato queste certezze? Sì, la certezza della squadra comunque dopo il tuo compagno lì aveva capito che comunque era una squadra importante perché comunque abbiamo fatto una prestazione forte, abbiamo dato una risposta forte a tutti e come ha detto Ricky la cosa peggiore è andare a casa con la coda tra le gambe con una prestazione così mediocre da parte di tutti perché comunque quando uno sbaglia è un contro ma quando sbagliano in tanti forse un meccolo un po' bisogna farselo quindi da martedì ci guarderemo tutti in faccia e si inizierà a remare, ad avere l'atteggiamento di Forlì perché se no alla fine non arriveremo dove abbiamo tutti parlato inizio anno è quello che dà fastidio, è quello che mi manda a casa con le lacrime, capito? perché dispiace, dispiace perché siamo una squadra forte e forse dobbiamo essere noi primi a convincerci di esserne la differenza quindi a questo punto emerge che non è che la qualità cioè la qualità, abbiamo detto l'ennesima conferma che non basta ma in questo campionato ormai... no, l'hai detto bene perché io non invidio neanche un giocatore alle altre squadre io domani rifare la stessa squadra che c'è adesso all'Alessandro dobbiamo essere consapevoli che noi siamo forti se ci mettiamo al livello di tutte le altre se abbiamo l'aggressività di tutte le altre, dall'ultima alla prima così facciamo la differenza, così escono i nostri valori e così le altre squadre avranno paura dell'Alessandro così invece è difficile, così siamo andati in difficoltà parecchie molte e non deve più capitare posto? grazie grazie a tutti, buona serata